Quest'anno il treno della memoria non è partito a causa della pandemia da Covid-19, così il 27 gennaio, giorno della memoria delle vittime dell'olocausto, è stato celebrato con un evento al Teatro della Compagnia di Firenze, con molti ospiti collegati online, così come gli studenti. Presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, Ugo Caffaz, inventore del treno della memoria toscano, l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Come oggi noi parliamo del vaccino verso il Covid-19, si deve creare un sistema di immunità a quelle idee super-ommunistiche, a quelle idee fondate sulla competizione dell'uomo dell'uomo che arrivavano poi a giustificare la distruzione dell'altro. Insomma, quelle ideologie che purtroppo lo vediamo dalla rete, da internet, ancora nei giovani qualcuno cerca di farle circolare e che sono le idee fondate sul totalitarismo e sulla discriminazione razziale, etnica, politica. Non devono trovare nemmeno il minimo cermoglio. In video sono intervenuti Enrico Pieri, superstite alla strage di Sant'Anna di Staziema, Vera Vigevani Yarach, che ha subito la persecuzione contro gli ebrei e la scomparsa della figlia desaparecida in Argentina, Kitty Brown, sopravvissuta a Lager e Fiorentina d'adozione dal 1947, e le sorelle Andra e Tatiana Bucci, scambiate per gemelle e per questo sopravvissute all'Olocausto. Abbiamo il dovere di non abbassare la guardia, ma anzi soprattutto di insegnare, far conoscere alle nuove generazioni ciò che è stato, quell'orrore, le pagine più vergognose della nostra storia. Penso ad esempio allo sterminio degli ebrei, degli oppositori politici, dei disabili, degli omosessuali, dei testimoni di Geova, dei rom di Sinti, ma anche alla vergogna, alla macchia indelebile delle leggi razziali, firmate proprio qua in Toscana nel 1938. Ecco allora a conoscere ciò che è stato, perché non possa mai più accadere. Nel Consiglio regionale della Toscana si è tenuta una seduta solenne per la giornata della memoria ed è stata consegnata una targa al figlio di Basilio Pompei, 103 anni, per l'esempio di vita del padre, deportato in un campo di prigionia polacco durante la Seconda Guerra Mondiale. Pompei oggi vive in una RSA ed è stato tra i primi vaccinati anti-Covid.